Il 7 gennaio sarà l'ultimo giorno per visitare il presepe vivente di Sutri, in provincia di Viterbo. Dalla via Cassia si ammirano le luci che colorano le bellezze della rappresentazione della natività di Gesù nella città vecchia, la necropoli rupestre. Nel paese della Tuscia Viterbese le tombe sapientemente illuminate con fiaccole romane e sono il teatro naturale nel quale sono allestiti i quadri di vita quotidiana della Palestina di allora grazie all'iniziativa della Proloco. Il presepe per noi è una rappresentazione storica in cui crediamo fortemente nonostante appunto le bellezze e la location che si presta in maniera forte ci piace rappresentare il tutto. I visitatori potranno ammirare figuranti in costumi d'epoca, donne, uomini e bambini intenti a svolgere i lavori e i giochi quotidiani, guardie romane con il loro accampamento e personaggi che li coinvolgeranno in un'esperienza affascinante e indimenticabile. Ci crediamo quindi cerchiamo in qualche modo di essere presenti in questo e speriamo anzi sempre di più. Ultimo giorno per visitarlo sabato 7 gennaio.